Una casa rifugio è un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza del partner che spesso aumenta nel periodo in cui la donna tenta di separarsi. È un luogo in cui si può intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione dannosa e ricostruire con serenità la propria autonomia. Per le vittime è un percorso spesso faticoso ma lo è ancora di più per le donne immigrate che portano sulla pelle i segni di violenze brutali e reiterate. A Napoli si moltiplicano le esperienze positive di accoglienza. Nella sala dei baroni del maschio angioino si è tenuto il convegno promosso dall'assessorato al welfare in collaborazione con la cooperativa Dedalus. È stata l'occasione di un confronto su metodologie e procedure di protezione delle donne ma anche dei loro figli. Accade continuamente che una donna viene aggredita, picchiata o addirittura uccisa come è successo proprio nei giorni scorsi. Quello che noi pensiamo è che ci voglia una risposta concreta, strutturale e sistemica. Dei luoghi dove le donne vengono accolte, vengono ascoltate e per le quali viene fatto un progetto anche di fuoriuscita. Noi oggi facciamo un momento di confronto sulle linee guida che noi abbiamo approvato ormai già da un anno e abbiamo anche attuato attraverso la realizzazione di una rete di strutture di accoglienza e anche il consolidamento di una struttura che è quella di Casa Fiorinda che noi abbiamo realizzato in un bene confiscato alla Camorra. Molte sono le donne anche straniere, le donne con bambini che cominciano ad avere fiducia nelle istituzioni e quindi a denunciare. C'è un'altra novità e cioè quella della continuità. Noi riusciremo a non interrompere il servizio fino al 2020. Che cosa significa? Che una risposta continuativa nel tempo è una risposta certa per le donne che possono individuare nelle istituzioni un punto di riferimento.